L'ottimismo c'è a Treviso? Ma direi di sì, a me non lo percepisco io ma anche i miei colleghi. Commercio in ripresa a Treviso, almeno all'interno del centro storico. Dopo gli anni della crisi e di volti preoccupati, pare proprio stia tornando alla serenità dietro ai banconi dei negozi, ma non solo. Vediamo i clienti un po' più sereni, nel senso che quando entrano in negozio sono meno tesi, se gli proponi qualcosa in più vedi che lo accettano e magari anche lo acquistano. Direi che siamo sulla strada un po' dell'ottimismo e poi di conseguenza speriamo della ripresa e sono convinto di sì. Una ripresa che ancora porta i segni del passato con famiglie che per sopravvivere si sono indebitate e che ora prima di fare nuovi acquisti onorano le pendenze. Ma secondo Ascom la gran parte dei trevigiani che finora è stata attenta alle spese sembra orientata a lasciarsi un po' andare. Chi li aveva da parte e forse prima era restio oggi ha più ottimismo e quindi si percepisce che magari ha voglia anche di spendere qualcosina in più visto che è stato stretto di cinghia per diversi anni. Un clima positivo che però ha bisogno anche di incentivi come eventi e spettacoli che attragano cittadini ma anche turisti, soprattutto stranieri. Infatti anche su questo fronte i segnali sono più che confortanti. Prevalentemente sono i paesi del nord, quindi Belgio, Olanda, Scandinavia, insomma i paesi scandinavi. Però abbiamo avuto tantissimi, per esempio australiani, brasiliani, argentini, dal Sudafrica. Così i commercianti hanno organizzato per i prossimi tre venerdì sera tutta una serie di manifestazioni distribuite in diversi punti della città. Spettacoli e incontri in contemporanea con il prolungamento dell'orario di apertura dei negozi che si concluderanno tutti alle 9 di sera. Perché il venerdì sera è l'inizio del weekend, quindi sabato e la domenica sono sempre delle serate cui uno dedica magari più alla famiglia, più andare fuori a cena che girare per una città o pensare allo shopping con i negozi aperti fino alle 21. Grazie a tutti.